Ciao, sono Alberto, benvenuto sul canale YouTube di Omono in Italia. Insieme ai miei colleghi abbiamo pensato e realizzato delle playlist, che abbiamo chiamato serie, in cui episodio dopo episodio e passo dopo passo ti raccontiamo i nostri prodotti e ti aiutiamo nell'utilizzarli al meglio per realizzare le tue soluzioni di automazione industriale. Parleremo di controllori di macchina, parleremo di sicurezza, di robotica e tanto altro. Nella descrizione di questo video puoi trovare i link alle serie che abbiamo pubblicato e ti consiglio di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle prossime che pubblicheremo. Inoltre non esitare a lasciarci un messaggio nei commenti dei video o mandarci un'email per feedback, per segnalazioni, per suggerimenti sui prossimi argomenti che vorresti siano trattati da questo canale. Grazie e a presto!